Il mondo ti sta venendo addosso, allora cosa fai? Devi fare meditazione, cercare di estragnarti dal mondo per finalmente entrare in contatto con la tua spiritualità e fare tutti i tuoi ragionamenti. Beh, se tu non dovessi toglierti lo stress della vita quotidiana, del capitalismo, del profitto, della pubblicità, del vendere e comprare, se tu non avessi tutte queste preoccupazioni, non sarebbe molto più facile. E allora, quello che noi pensiamo adesso è che sia più importante educare le persone su quello che si può fare e su come si possono mettere le basi. Il Venus Project non è la fine, è l'inizio del percorso. Per come la vediamo noi, la società in cui viviamo non è civile. Una società sarà civile quando tutti quanti avranno accesso alle risorse, quando le produzioni saranno automatizzate, quando uno può avere l'orto per passione, non perché se non lo fa muore di fame, quando uno può fare l'artigiano perché gli piace fare quello, che fa la sua scultura, che poi, quando la fa, siccome non la deve vendere per vivere, magari la regala a qualcuno. E allora la realizzazione che il fare qualcosa per gli altri, il donare, quello ti dà molta più soddisfazione che farti le cose per te stesso e tenertele per te stesso. Ed è per questo che l'unico futuro avanti che abbiamo insieme, molti pensano al dualismo ricchi e poveri, i poveri odiano i ricchi e i ricchi hanno paura dei poveri. È così, è sbagliato. Noi abbiamo bisogno anche di ricchi e far capire loro che l'unico modo che hanno per essere felici è donare qualcosa, aiutare gli altri. E non per qualche motivo pseudomistico, è così scientificamente. Hanno fatto fMRI scanning a vedere le reazioni, dal punto di vista anche neurochimico, di come funziona il cervello quando tu fai qualcosa per te stesso e per il tuo rendiconto personale immediato, o quando lo fai qualcosa esteso agli altri. La soddisfazione che ricevi quando fai qualcosa per gli altri è molto, molto più grande. E quindi è questo che dobbiamo far capire. Se voi guardate i ricchi, sono la categoria sociale che hanno la percentuale più alta di suicidi, che sono sotto psicofarmaci, maniaco depressivi. Perché? Perché sono istruiti, educati, fin da quando sono bambini, a fare una cosa, a pensare che il valore più importante è fare soldi e che l'acquisizione di beni materiali porterà loro alla felicità. Poi quando arrivano a 30, 40, 55, 60, 70 anni, si accorgono che la loro vita è stata inutile e che l'unica cosa che sanno fare li porta ad essere ancora più infelici. E allora perché non spezzare questa cosa subito e far capire anche a loro che possono essere più felici se condividono le cose e se lavorano per cooperare con gli altri. Allora questa, secondo me, è anche spiritualità. e noi la chiudiamo con queste due parole terapia sociale. L'educazione vera è anche educazione alla spiritualità, educazione a rapporto con le altre persone, educazione a rapporto con la natura, con le altre specie che noi maltrattiamo e utilizziamo come se fossero peggio degli oggetti. Questa è anche spiritualità. Grazie. Ci sono altre domande? Da il castileo tra quanto è? Gennaio 2010, l'uscita mondiale, stiamo... Scusa, mi ha chiesto? Scusa, sì, ha chiesto il prossimo film di Zeitfest che si chiama Moving Forward. Ha chiesto quando uscirà. Gennaio 2010, a metà di gennaio, è prevista l'uscita... 2011? È prevista l'uscita mondiale. Sarà in 20 lingue, in più di 60 paesi. Cercheremo di farlo uscire anche in alcuni cinema selezionati, organizzato dai gruppi cittadini del movimento Zeitfest. E tra l'altro qui c'è un po' di materiale che distribuiamo gratuitamente. Profitto. Qui ci sono dei DVD del Zeitfest Addendum e della presentazione multimediale di orientamento. E qui ci sono un po' di copie di Guida dell'attivista che diciamo sono miei personali, però se qualcuno è molto interessato e le posso regalare, comunque le mettiamo anche sul sito. Potete scaricarvi il PDF, stamparvelo, leggervelo così. Oppure potete ordinare il libro e non ci guadagniamo niente. Il costo della stampa pura lo facciamo tramite un servizio esterno e non guadagniamo neanche un centesimo. Il costo della stampa è quello che pagate voi e vi arriva a casa. Io voglio fare una domanda sola. Sì. A Daniele. Ciao Daniele, mi interessa molto la tua esperienza, questa doppia faccia tra virgolette. Cioè tu lavori in una multinazionale, una delle più importanti del settore, mi sembra di capire, no? Quindi non piccoli, una multinazionale comunque, e fai parte del movimento e quindi sicuramente cercherai di portare anche questo spirito del nuovo tempo anche all'interno della tua azienda. e quindi oltre l'educazione, diciamo quella che diceva Federico, della base sociale, molto importante è anche l'educazione di altri scienziati, per esempio, no? Ti volevo chiedere come sta andando? Se ci puoi dire il dottor. Viva, ancora mia. Anche come vivi te? Infatti l'esperienza che ho io, l'esperienza che ho io, a livello lavorativo, è proprio quella che mi ha spinto a unirmi al movimento Zcast. perché la posizione che ho io è una posizione quasi favorita, dove posso osservare gli effetti direteri che il sistema, il profitto, la competizione che le corporation devono costantemente rinforzare già sulle persone. Perché moltissime persone, i miei colleghi, sono persone fantastiche, fantastici, i padri di famiglia, e così via, e sono obbligati ogni giorno a fare scelte spesso orribili per salvare la corporation in cui lavorano, dalla quale dipendono e dalla quale dipendono molte persone. Dal mio lavoro posso vedere come il problema non è la cattività delle persone, ma è il design globale del sistema del profitto che genera le condizioni per cui solo compagnie che sono fortemente competitive e senza scrupoli sopravvivono e dominano e impongono le regole del gioco. Perché il design del sistema competitivo è che chi vince impone le regole del gioco e chi vince è sempre colui che ha i minori freni di pittori. Quindi, e ho visto anche molte compagnie oneste guidate da persone fantastiche che sono andate tutte in balcata perché non possono sostenere il mercato. Quindi, noi abbiamo una sensazione sbagliata che le persone sono cattive ed egoiste, ma la verità è che il sistema nel suo design seleziona solo persone egoiste senza affredire i limitori e le porta in alto al ruolo del vincitore. E noi sembra che vediamo solo chi vince e non vediamo che davanti al percento delle persone che perde invece erano le persone che volevano fare qualcosa di buono per gli altri. Quindi noi vediamo solo il 5% che vince e che non ce ne soffre l'unibitore e pensano che tutto il mondo è così. E invece non è così. E io sono testimone dall'interno. Io lavoro in queste corporation, sono in competizione costante con altri ricercatori, costantemente condivido le mie, quello che conosco e la cosa bella è che vedo come ciò che voi avete dentro si riflette nella realtà. Perché quando io voglio condividere il stile Venus Project e la mia conoscenza con gli altri, spesso gli altri si rifiutano di ricevere quello che io conosco perché c'è la paura che questa è una trappola del mio sistema perché ti devono farli fuori e quindi una volta si sono fatti fuori loro per cui io in 5 anni sono passato da semplice ricercatore straniero della corporation orvegese a manager perché uno dopo l'altro tutti coloro che non volevo collaborare con me si sono fatti fuori da soli. E tu sei la prova di collaborare esatto. La collaborazione è la cosa più efficiente e quello che ho dovuto fare per rendere il mio settore funzionante e vincere contro multicorporation a livello di multicorporation e prendere due italiani portarvi con me in Norvegia persone di cui posso fidare e che si fidano di me e abbiamo creato un team e quello che succede è che tre ricercatori sono molto meglio del centro ricercatore perché il centro ricercatore è tutti quanti in cooperazione tra loro per cui la c***a può utilizzare l'idea migliore dell'uno sul cento che è il migliore dei cento quindi c'è la probabilità statistica diciamo di avanzamento tecnologico che è uguale al migliore dei cento mentre noi siamo tre e siamo sinergici quindi tre normali vincono tranquillamente contro cento in contraddizione perché noi collaboriamo e condividiamo la conoscenza questo è quello che possiamo fare a tutti i livelli è una questione che sta a spiegare grazie 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 altra domanda una domanda è fase di tipo è che cosa c'è per la questa situazione gelato no vi chiedevo se questo tipo di intervento se nei vostri piani di azione avete previsto questo tipo di intervento per esempio nelle scuole cioè questi ambiti di deformazione mentale delle diverse generazioni grazie un'ottima domanda sì certamente uno dei nostri progetti è quello di lo chiamiamo GDL educazione cioè gruppo di lavoro educazione l'idea è quella di preparare diciamo delle piccole guide sia per gli insegnanti che anche per gli studenti quindi sia gli insegnanti per cercare di insegnare in un modo diverso i propri studenti e anche gli studenti magari anche proprio all'elementario o all'asilo tramite delle figure come fumetti poi diventano sempre più elaborati per spiegare magari invece il fumetto stupido dove c'è quello che uccide l'altro cattivo no le persone invece che magari collaborano fanno insieme ricercano una cosa scoprono una cosa della natura guardano le stelle dicono cos'è quello allora l'altro gli spiega cos'è la stella fanno vedere condividendo le informazioni quindi tutti questi progetti qui sono parte e anche eventualmente fare conferenze nelle scuole è una delle nostre priorità prime diciamo che il movimento italiano è molto giovane perché di fatto abbiamo cominciato realmente da gennaio a fare qualcosa adesso siamo a ottobre e in questo breve periodo di tempo siamo secondo me cresciuti ad un ritmo pazzesco quindi e anche esatto esponenziale quindi quello che dobbiamo fare è adesso capire quali sono solide le basi da cui partire creare dei gruppi di lavoro che possono operare nei vari settori c'è il gruppo di lavoro grafica e video che fa il pamphlet fa i video fa le grafiche fa gli sticker dei pdf illustrativi delle infographic così poi c'è il gruppo di lavoro delle traduzioni che traduciamo il materiale dall'inglese lo diciamo in italiano poi c'è anche il gruppo di lavoro diciamo formazione stiamo abbiamo un progetto interessante che si chiama la mia vita nel Venus Project abbiamo scritto due episodi adesso stiamo per scrivere il terzo e anche il progetto è quello di far uscire un bimensile con delle storie nostre degli articoli sulla scienza gli articoli su come ragionare come parlare con i propri figli come parlare con i genitori parte dei figli e in questi episodi della mia vita nel Venus Project raccontiamo di un possibile futuro e mi immagino immaginiamo che sono a cinque anni dentro la transizione verso questo mondo che non è perfetto però è meglio ok e com'è che vivo cos'è che faccio perché molti se lo chiedono io a volte chiedo a gente immaginati di non dover lavorare per vivere immaginati non devi fare quello questi qua già mi guardano cosa dici? non devi lavorare per vivere non ti preoccupare le cose ce le hai ti serve il pomodoro ce le hai serve la pasta ce le hai cosa fa? e mi stico ah non ci ho mai pensato scusa ne hai una di vita o no guarda che ci pensi nella prossima allora noi proviamo a fare questo proviamo a dare un'esperienza di vita possibile una delle tante di come potrebbe vivere un padre di famiglia potrebbe vivere un teenager come potrebbe vivere un ricercatore oppure un artista o le varie persone nel Venus Project cosa potrebbero fare nella vita di tutti i giorni? esatto prima qua e poi io sono molto contenta che il moto della rivoluzione del 69 che era la rifaginazione al potere sia antico che vegeto è molto antico nel 2011 eh sì certo grazie grazie a voi 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 grazie a voi